Ciao a tutti, invito sul palco i relatori del nostro panel dedicato al Vacation Rental. Buonasera a tutti e grazie di essere qui. Il Vacation Rental è uno dei settori più in crescita in questi anni perché in realtà se ne sente parlare da uno o due anni in Italia, negli Stati Uniti sono già diversi anni che la gente ha capito che questo settore è veramente una leva economica importante per lo sviluppo proprio dell'economia stessa di un paese e quale business per l'Italia può dare una prospettiva migliore di quello immobiliare, in particolare quando questo business si unisce allo sviluppo turistico. Quindi qui sul palco abbiamo Stefano che è il nostro presidente, dico nostro perché io sono associato di Property Managers Italia, è un'associazione che raggruppa le persone che lavorano in questo settore. Antonio Bortolotti è il curatore del Vacation Rental World Summit che è un evento indipendente, vocato proprio ad aiutare le persone che sono in questo settore a fare bene e l'ultimo evento è stato proprio qui a Firenze qualche settimana fa, è stato un grande successo e è un grande onore naturalmente che sia proprio tu Antonio italiano a portare avanti questo progetto rivolto a un pubblico mondiale. Patrizio Fiorentino Doc è uno degli innovatori più forti in Italia per quanto riguarda questo settore, ha inventato Kisi qualche mese fa e oggi si pone come punto di riferimento quando si parla di check-in automatizzato. E per finire ma non per importanza c'è il nostro Bartolomeo di crossbooking, anche lui è partito poco fa perché come dicevamo il settore è molto giovane e ha sviluppato un software di cui vi parleremo, insomma non voglio anticipare nulla ma a sentire le tuoi clienti Bartolomeo, insomma le persone sono molto contenti di lavorare con te. Partiamo subito con la prima domanda, mi sono preparato un po' diciamo di domande perché ci sono degli aspetti che mi incuriosiscono del vostro lavoro e anche degli aspetti del settore che voglio approfondire. Parto con te Stefano, tu hai un'azienda si chiama Rentopolis che dalla sua nascita ha abbracciato la sfida della tecnologia e so che stai lavorando solo per aiutare le persone che collaborano con voi su questo punto. Ci dici quali sono gli aspetti che reputi cruciali quando si parla di tecnologia applicata al vacation rental, cos'è oggi importante, cos'è che vogliamo automatizzare, che dobbiamo automatizzare per restare al passo con i tempi? Grazie, buonasera a tutti, grazie appunto per l'introduzione e per l'invito. Hai detto bene prima, il vacation rental è un mercato nuovo, è un mercato che abbraccia diversi settori, fra cui appunto l'immobiliare e il turismo ed è un mercato che si fonda sull'innovazione, innovazione che di fatto comporta tecnologia ed infatti i relatori che sono qua poi illustreranno alcuni aspetti appunto di questa tecnologia. Essendo un mercato in crescita, essendo un mercato che si continua ad evolvere è difficile dire quali siano gli aspetti cruciali, nel senso che io l'ho vissuto nella mia esperienza in questi anni in cui mi sono dedicato appunto a questo settore e ho visto che è cambiato il mondo, lo vedete anche voi, vedete le riforme legislative, vedete quanto si parla di questo aspetto, com'è cresciuto perché di fatto pensiamo a fenomeni di alcuni portali che parlo di 5, 6, 7 anni fa non esistevano e che adesso proprio grazie alla tecnologia, all'innovazione, cioè mettere in contatto un ospite, un turista che arriva dall'altra parte del mondo con un qualcuno che invece vuole utilizzare la propria struttura per fare accoglienza, fare appunto accoglienza, fare turismo, quanto questo mercato quasi sia sviluppato. Penso che concretamente una delle esigenze principali che ci siano adesso sulla tecnologia è il fatto di riuscire ad automatizzare una serie di processi necessari per gestire questa attività che però comportano tanto tempo, se non altro anche per la frammentarietà che purtroppo contraddistingue il nostro paese, sappiamo benissimo che a livello legislativo regolamentare non brilliamo certo per semplicità, questo ovviamente ha un impatto molto forte sull'operatività, operatività che di fatto corre il rischio di tirar via del tempo che invece dovrebbe essere dedicato a quello che è l'essenza del vacation rental, ovvero l'accoglienza, il fare turismo, il trasmettere esperienze. E proprio parlando di accoglienza, oggi si sente parlare tantissimo, Patrizio, di check-in automatizzato. Qualcuno teme il fatto che col check-in automatizzato l'accoglienza possa essere di qualità inferiore se fatta da una macchina, ma tu insegni che il check-in e l'accoglienza sono due cose diverse. Ci puoi spiegare meglio questo concetto? Assolutamente. Sono sicuramente due attività diverse. Oggi l'attività di check-in è un'attività completamente burocratizzata. Quello che diceva Stefano adesso è la necessità di dover andare a ottimizzare e automatizzare tutta una serie di processi, sia per riuscire a organizzare meglio il lavoro, sia per riuscire a trovare anche economie importanti. Teniamo conto che il check-in è tutta quella parte in cui io do le chiavi al mio ospite, raccolgo il documento e lo devo inviare alla questura, raccolgo la tassa di soggiorno e lo devo inviare al comune, raccolgo il contratto che mi serve per regolamentare la presenza nel mio alloggio del mio ospite. Tutte queste attività non possiamo chiamarle accoglienza, questa è burocrazia, ha tutti gli effetti burocrazia, come la burocrazia è tutta quella attività che obbliga una persona a essere in un luogo in un determinato momento. Cosa intendo per accoglienza? Intendo il momento invece in cui io ospite posso decidere insieme al mio host, quindi alla persona che mi metta a disposizione il suo immobile, di poter arrivare a prendere possesso di quell'immobile. Ovviamente oggi c'è paura in questo perché oggi siamo abituati, almeno negli ultimi dieci anni, ad accogliere i nostri ospiti fisicamente, ma non ci siamo mai posti però alla domanda il nostro ospite ha così tanta voglia di incontrare noi in quel momento? Perché noi con Chisi non cerchiamo altro che di spostare il momento dell'accoglienza dalla fase di check-in a una qualsiasi altra fase dove l'accoglienza è fatta da ambedue le parti, accogliere sia lato host che lato guest. Immaginiamo che se io dovesse arrivare alle due di notte l'ultima cosa che vorrei oggi è trovarmi uno sotto casa che mi aspetta, che mi deve presentare l'appartamento, io già molto tempo ho fatto un viaggio lungo, forse sono arrivato in ritardo perché ho perso una coincidenza anziché stato cancellato un volo e tutto questo mi dovrebbe portare a vivere una customer experience positiva, invece è l'opposto, io in quel momento mi gioco come host quei 20 minuti e mezz'ora per avere una recensione, ma penso davvero che per lui quella mezz'ora sia importante come per me, invece no, l'obiettivo deve essere accogliamoli nel momento in cui abbiamo deciso insieme di accoglierli e cerchiamo di superare un po' la paura del fatto che se siamo host vogliamo accoglierli noi ma se ci posizioniamo lato guest non vogliamo sicuramente essere accolti in orari diversi, quindi sì è sicuramente un cambio culturale, è un qualcosa che dovrà avvenire con un po' di tempo ma sono convinto sia lato host che lato guest sarà possibile riuscire a recuperare tutto quel tempo che abbiamo perso in questi anni. Ricordiamoci sempre che viviamo di recensioni e le recensioni possono essere ancora migliori di quelle di oggi se diamo tempo ai nostri guest di decidere quando accoglierci. Sono delle affermazioni forti Patrizio ma avremo modo di approfondirle magari con le prossime domande. Bartolomeo tu rappresenti una delle eccellenze in Italia quando si parla di software dedicati al settore del vacation rental, crossbooking è nato da pochi mesi ma ha saputo cogliere tutte quelle che sono le esigenze concrete degli operatori del settore, offrendo soluzioni dedicate. Ci dici oggi quali sono i processi che attraverso un software è possibile automatizzare? Sì Danilo, corretto, diciamo volevo condividere con voi un'esperienza sul fatto che quando abbiamo lanciato questa piattaforma crossbooking non avevamo principalmente l'intenzione di concentrarci sul mercato del vacation rental. Tuttavia notavamo che quando utenti, clienti, cominciavamo ad avere un dialogo diretto con loro, notavamo che c'era proprio una carenza nella semplificazione procedurale del lavoro del vacation rental. Quindi cosa abbiamo fatto? Ci siamo concentrati nell'intercettare quelle che erano una serie di buone prassi e trasferire in un codice omogeneo. sostanzialmente quello che è il nostro principio che poi ci porta a sviluppare tutto quello che facciamo è cercare di mantenere il flusso il più diretto possibile e il più semplice possibile. Qual è il concetto di semplicità? Mancata ridondanza dei dati, semplificazione normativa, il fatto di poter avere un unico dato che viene elaborato e operato in tutto quello che è il flusso dal ricevimento della prenotazione alla rendicontazione nei confronti del proprietario al billing. Devo dire che soprattutto per esempio come già i colleghi hanno detto il problema normativo è un problema che ci tocca in maniera diretta perché per noi è uno sforzo riuscire a mantenere la piattaforma capace di poter soddisfare a questo tipo di semplificazione. Un altro aspetto molto importante è quello che abbiamo cercato di mantenere una piattaforma che sia anche economicamente accessibile perché poi sebbene il vacation rental è un'attività in crescita comunque ha già dei costi importanti, intermediazione, commissioni bancarie, costi di gestione a volte anche più elevati rispetto a strutture e quindi abbiamo cercato di mantenere un modello di pricing adattivo che permettesse proprio a tutti di poter utilizzare anche con un numero di risorse limitato un prodotto di alto livello e soprattutto molto completo per quello che è la gestione del flusso completo o dell'attività del vacation rental. Grazie Bartolomeo, mi raccomando mantieni sempre i prezzi competitivi perché ci teniamo. Quest'anno Antonio a Firenze si sono alternati sul palco del tuo vacation rental world summit alcuni tra i più grandi influencer mondiali del settore del vacation rental. Molti di loro avevano a che fare con la tecnologia e con i software legati al settore. Ci dici quali hanno riscosso maggior impatto tra i partecipanti e perché? Allora assolutamente la sessione che ha riscosso il successo più grande è stata quella di Alan Egan che è il fondatore di Rentmore Wix, un blog di informazione nel settore del vacation rental e Vacation Soup che è una nuova creatura che vedremo tra a breve online. Lui ha fatto, allora il summit si rivolge soprattutto a proprietari di case, property owners e property managers che vogliono ottenere più prenotazioni dirette e anche più prenotazioni in generale snellire i flussi, i processi quindi attraverso software che li aiutano a migliorare la gestione del proprio business e in quest'ottica aumentare quindi il revenue. Chiaramente chi vuole ottenere più prenotazioni, chi vuole disintermediare deve capire che il proprio sito internet è il primo punto in cui dover lavorare per fare in modo di aumentare gli accessi e le possibili conversioni. Quindi Alan Egan ha fatto vedere una sessione dove utilizzando il proprio sito internet è possibile inserire dei video emozionali, far leva su tutte quelle sfere emotive per cui la persona arriva sul proprio sito e rimane catturato, inizia la navigazione e l'obiettivo è quello alla fine di instaurare un contatto con il proprietario del sito internet che poi può arrivare ad una conversione. Questi video emozionali si possono trovare anche su internet, è possibile, è molto semplice, inglobarli nel proprio sito e fare in modo che i video ruotano intorno alla destinazione non tanto alla propria struttura perché la persona fino a un certo punto cerca la struttura ha bisogno dell'esperienza e la struttura è una parte di questa esperienza. Per cui in sostanza questa è stata la parte principale che è stata gradita di più oltre ad una panel discussion, una tavola rotonda come questa insieme a Airbnb, Booking, quindi le due OTA principali per la maggior parte delle persone e Property Managers e Property Owners che hanno discusso dove è il futuro del Vacation Rental quindi nel 2018, l'anno prossimo, che in sostanza è automazione e diventare sempre più professionali per poter competere con un mercato che è sempre più dinamico, sempre più veloce e sempre più reattivo. Quindi chi riesce è dentro, chi non riesce a ottimizzare i flussi e i processi è destinato probabilmente a uscire a breve. Quindi anche un'automatizzazione delle relazioni, se vogliamo, attraverso questi video che creano fiducia e quindi in automatico poi sviluppano possibilità di conversione. Stefano, tu hai fatto una cosa straordinaria al Salone di Milano, ci hai lasciato tutti a bocca aperta perché hai presentato l'appartamento turistico 3.0, noi eravamo all'1.0, te hai fatto il salto direttamente al 3.0. bellezza, funzionalità, tanta tecnologia intelligente. Ricordo anche dell'iPad, un po' in stile Citizen M, di quegli alberghi automatizzati e ricordo anche un'attenzione alla domotica e al controllo della temperatura all'interno degli appartamenti attraverso una app. Ci parli di questo sistema? Come funziona e quali sono i benefici per il gestore, ma anche per l'utente? Sì, come dicevamo prima, questo mondo comporta ovviamente un utilizzo, un'innovazione che deve continuare ad aggiornarsi. Questo mondo è anche caratterizzato da un turismo 2.0, tanto per parlare di numeri, dove di fatto, come prima dicevano anche i relatori, si cerca un'esperienza. Prima Antonio diceva che vengono mostrati dei video sulla destinazione, infatti, perché l'ospite cosa vuole? Non vuole più un turismo contemplativo in cui visita dei monumenti e fine, vuole vivere un'esperienza. Come facciamo a far vivere un'esperienza? Come facciamo a raccontare ad una persona che non conosce le radici, che non conosce le tradizioni, la cultura di una determinata località? E attenzione, parlo soprattutto di centri minori, di borghi, non parlo solo delle grosse città o in generale della cultura di un paese. Come facciamo a trasmettere qualcosa? La nostra idea è stata quella di dire che lo trasmettiamo con la tecnologia, quindi, appunto, in un contesto particolare, in appartamenti con delle ricerche anche architettoniche, diciamo, anche stilistiche molto curate, abbiamo cercato di dare anche un sistema che favorisse l'utilizzo o la possibilità di vivere un'esperienza. Da lì, appunto, mettere un tablet che di fatto serve come virtual conserge, quindi descrive gli appartamenti, descrive che cosa si può fare, i punti di interesse, permette di vedere che servizi vengono offerti. Dall'altra parte, invece, c'è l'app sul controllo della domotica. Perché? Perché da un lato, ovviamente, ci deve essere un'esperienza che vive un ospite, ma dall'altra ci deve essere anche un controllo sempre maggiore della propria struttura, delle strutture ricettive. In questo senso, il primo, chiamiamolo guadagno, è dato dal risparmiare sui costi. E pertanto il fatto di utilizzare questi sistemi qua per permettere, appunto, di risparmiare, di fatto, da un lato, ovviamente, serve anche per l'ambiente, nel senso che risparmiare energia e quant'altro porta dei benefici, e dall'altro serve anche per le tasche, nel senso che ovviamente è un risparmio concreto che si va a fare. E' anche molto bello accogliere una persona e fargli trovare la giusta temperatura nel momento in cui gli serve, e quindi non lasciare i termosifoni accesi per due giorni, ma accenderli tre, quattro ore prima dell'arrivo e governare questa cosa. O per dire, controllare i rumori. Uno dei problemi concreti che abbiamo avuto era che spesso c'erano dei rumori in appartamento e i condomini si lamentavano. Quindi c'è un sistema che controlla i rumori e che manda un alert, fa partire una telefonata, un sms, dopo che la soglia del rumore è stata superata. Abbiamo risolto per il 90% il problema dei rumori notturni, è un esempio. Fantastico. Sapete, ci sono delle città, o anche le università, dedicano dei riconoscimenti come le lauree ad onore, ma ad esempio a persone che hanno fatto qualcosa di straordinario nella loro vita. Firenze ha un riconoscimento, si chiama il fiorino d'oro, e viene consegnato direttamente dal sindaco a quei cittadini fiorentini che si sono distinti perché hanno fatto qualcosa di straordinario. Patrizio, io voglio approfittare di questo momento per farti i complimenti per il riconoscimento della città di Firenze. Ti ha donato qualche giorno fa un riconoscimento per aver realizzato un qualcosa di straordinario. Oggi è comune, si sta comunque iniziando a sentir parlare di check-in automatizzato, ma tu per primo, contro tutti e contro tutto, hai inventato Kisi, un sistema automatizzato per fare il check-in automatizzato al 100%. Ci dici, visto anche questo riconoscimento che hai avuto, non sono io Danilo che ti dice ah sei stato bravo, è stato il comune di Firenze a suggellare questa tua iniziativa. Quindi ci dici, per curiosità, da dove ti è nata l'idea e quali esigenze va un po' a risolvere? Sì, è stato assegnato a Kisi il fiorino d'oro all'innovazione, che è sicuramente da fiorentino un pregio avere un fiorino, potrei fermarmi qui perché posso raccontare qualcosa ai posteri. Scherzi a parte, ovviamente nasce su un'esigenza, come spesso le buone idee nascono perché ci sono dei vuoti, che sono spesso identificati nella persona che la vive o nelle attività, nelle organizzazioni. Il fiorino d'oro di per sé è un riconoscimento per un'idea che nasce su di me, io sono un host, faccio l'imprenditore come nella vita ma sono un host, mi sono trovato a dover gestire degli appartamenti e per gestire il tempo mi sono accorto che mettere in affitto questi appartamenti a fini turistici mi avrebbe levato del tempo, mi avrebbe levato più che altro il tempo nei momenti importanti, nei weekend, nei momenti di vacanza, passatemi il termine, e quindi c'era un po' una sorta di contrapposizione tra il beneficio di avere degli appartamenti da mettere in affitto turistico e la mancanza del tempo che invece ti veniva riconosciuta. Ovviamente ho immaginato solamente trovare una soluzione che permettesse a me e a chi come me si trovava in questa situazione a risolvere questo problema. Il tempo, infatti il nostro claim è my time, your time, il tempo dell'host e il tempo del guest. Nasce quindi un sistema che permette di automatizzare tutto il processo e di mettere in condizione il guest di arrivare quando vuole a raccogliere le chiavi per il suo appartamento. Ovviamente nel momento in cui il guest prende queste chiavi l'host viene informato tramite un messaggio, quindi una notifica, che gli permette poi di interagire con il suo ospite nella forma che più desidera, fisicamente, per telefono, per messaggio. Io ovviamente credo che l'innovazione vera sia stata quella di rendere un bene importante per ognuno di noi che è il tempo. Oggi noi abbiamo una vita che è fatta da tempo e spesso sprechiamo molto di questo tempo o per un lavoro, per un modo per sopravvivere e non cerchiamo mai di valorizzarlo. Forse la vera innovazione è stata questa. Diciamo che ironicamente nasce per trovare la qualità della vita, perché il weekend, il ponte del primo giugno o altri momenti sono importanti. La verità è che spesso si fanno i check-in dopo le 20. Voi, tenete conto, abbiamo fatto una ricerca di mercato tramite GFK Eurisco su un campione rappresentativo di mille guest. Il 40% di questi hanno dichiarato di utilizzare sempre l'extralberghiero fuori dall'orario classico delle ore 20. Quindi vuol dire che qualcuno che si sia noi host direttamente o collaboratori andranno ad accogliere queste persone al di là di orari consoni. Levare il tempo alla famiglia, levare il tempo a se stessi e ovviamente questo vuol dire anche non dare il massimo del servizio al nostro guest. Grazie Patrizio, grazie. Bartolomeo, tocca a te. Stasera Crossbooking, il tuo software, il tuo bambino farà la prima uscita ufficiale proprio qui a Firenze. Hai scelto, immagino non a caso, l'evento di BTO e questa sera in piazza Tasso, all'ostello Tasso farei la prima uscita ufficiale. Però immagino che, a parte l'ostello non può contenerci tutti, ma molti di noi non potranno essere fisicamente lì con te. Ci dici veramente in maniera breve e sincera, visto che la tua realtà è famosa per l'innovazione, quali sono le cose che avete in cantiere e che andranno a migliorare sensibilmente la qualità della vita di chi utilizza il vostro software? Quali sono le innovazioni più grandi sulle quali state lavorando? Allora, avrete capito che sia come piattaforma ma anche a questo tipo di eventi siamo abbastanza giovani, quindi ci stiamo ancora ambientando. Anche questo evento qui, di cui ha menzionato Danilo, se me lo dicevano lo scorso anno che io a distanza di un anno dall'antico di Crossbook aver fatto un evento, non ci credevo. Comunque, molto semplicemente, allora innanzitutto noi abbiamo fatto una piattaforma solida, veloce e completa che più o meno, voglio dire, niente di innovativo da questo punto di vista, nel senso che se non il fatto che ha una serie di caratteristiche tecnologiche che lo rende più performante rispetto ai nostri colleghi. Che cosa abbiamo fatto? Allora, quello che noi pensiamo è che comunque ci siamo concentrati molto sul controllo di gestione perché riteniamo che la possibilità di poter monitorare non tanto il revenue quanto il rendimento di ogni singola struttura sia un fattore essenziale che poi dovrebbe quotidianamente funzionare da driver per prendere le decisioni giuste, strategiche su quella che è l'attività che andiamo a svolgere. Quindi abbiamo sviluppato una serie di sezioni dedicate che ci permettono di sapere quando vogliamo, da dove vogliamo in tempo reale, qual è la rendita di ogni singola proprietà, sia quella consuntiva che quella anche futura perché abbiamo tutti gli elementi a disposizione. Quindi controlliamo la rendita, quello che abbiamo fatto è che abbiamo preso anche delle logiche o teorie già di successo nel settore alberghiero e le abbiamo adattate al mercato del vacation rental. Faccio un esempio, quando si parla di revenue lo yield management che per il vacation rental è un po' più complesso perché noi gli appartamenti ce li abbiamo magari diffusi o le ville sono stagionali quindi non posso lavorare su variazioni di disponibilità della stessa tipologia e determinare una variazione di prezzo. Con Cross abbiamo cercato di adattare tutte queste procedure e renderle automatiche ma soprattutto abbiamo cercato con veramente enorme sforzo di rendere il più semplice possibile nel senso che non c'è bisogno di essere tra virgolette dei grandissimi esperti di determinate procedure per poter consultare i dati risultati che vengono prodotti dal software. Grazie Bartolomeo. Antonio, in questi anni tu con il tuo ruolo hai conosciuto e vissuto alcune delle realtà più importanti del settore del vacation rental nel mondo. Sempre di più il pallino delle prenotazioni passa attraverso gli algoritmi di società che sono quotate in borsa eppure oggi in sé è ancora possibile disintermediare e attrarre clienti diretti dal proprio sito. Quali sono le cose che non possono assolutamente mancare per fare in modo che il sito faccia il proprio lavoro cioè generi prenotazioni dirette? Allora anzitutto il sito deve essere un sito ad alto impatto emotivo quindi deve essere bello, sembra una banalità ma spesso banalità non è. Per essere bello deve avere delle fotografie professionali possibilmente a tutto schermo e non con i siti con le barre laterali, deve essere possibilmente anche avere dei video, il video è la frontiera futura, man mano che la tecnologia migliora la resa dei video è più rapida, i siti si caricano più velocemente un video attrae molto di più di un'immagine, molto di più di un testo scritto. Ci sono dei tools che sicuramente devono essere presenti, uno di questi è la chat. Io personalmente anni fa avevo installato una chat sul mio sito internet, forse era un po' troppo avanti con i tempi, non funzionava, l'ho tolta. Alcuni mesi fa ho visto che i trend cambiavano, l'ho reinstallata, la chat permette un'immediatezza di comunicazione spaventosa e oggi viviamo in un mondo dove veniamo bombardati da informazioni da tutte le parti, abbiamo sempre meno tempo, le nostre capacità reattive sono sempre più limitate, quindi non stiamo lì tanto a fare tante domande per aspettare tante risposte, molto spesso troviamo una struttura che ci piace e vogliamo sapere subito se è disponibile, quanto costa e se abbiamo delle domande, avere una chat nel proprio sito permette un contatto diretto con il potenziale cliente ed essere in grado di rispondere immediatamente a questa chat per bene aumenta sensibilmente le conversioni, quindi la chat sicuramente è qualcosa che posso consigliare. Grandi immagini, un gran sito, le call to action, un booking engine, le call to action sono dei bottoni che invitano a fare delle azioni per rimanere sul sito e possono anche essere fare una prenotazione e avere un booking engine ben strutturato, quindi un sistema di prenotazioni dirette che sia facile da capire, che sia intuitivo, immediato, che abbia la possibilità di offrire al cliente tutti i sistemi di pagamento possibili, dal bonifico bancario a carte di credito, paypal, perché dobbiamo metterci nella mente dell'altra persona e rendergli il processo il più facile possibile, torno a dire come dicevo prima, non abbiamo nessuno di noi a più tempo, ne abbiamo sempre meno, quindi la conversione che abbiamo si fa in uno spazio di tempo sempre minimo e bisogna fare in modo che il nostro sito metta a disposizione di tutti le possibilità per fare queste conversioni in tempi brevi. E proprio a proposito di tempo Stefano, i property manager oggi dedicano molte ore alle settimane del loro tempo a riempire fogli, pagare F24, inviare i documenti alla questura, fare i prezzi, caricare annunci, la sensazione è che coloro che automatizzeranno questi processi attraverso i software avranno più tempo da dedicare ad altri aspetti come il marketing oppure lo sviluppo e la loro attività e questo creerà un vantaggio competitivo in termini economici rispetto a chi non farà uso di queste tecnologie. Sono le regole del mercato, non me le invento io. Ti chiedo, se dovessi partire oggi con la tua società, da dove inizieresti per non restare indietro? Bella domanda. Ci sono tanti aspetti ovviamente da valutare e come abbiamo detto prima, essendo comunque un mercato nuovo e in continua evoluzione bisogna fare attenzione sul dove andare a parare. Di fatto noto anche attraverso l'associazione di cui parleremo dopo che c'è tanta confusione, nel senso che spesso chi intraprende questo lavoro, che magari ha fatto quasi per gioco, nel senso che ha iniziato a gestire il proprio appartamento, poi ha gestito quello dell'amico, poi altri si sono affacciati, si è trovato improvvisamente, ma grazie proprio al mercato che sta aumentando, ad avere una richiesta notevole, ad aumentare la potenzialità, però dall'altra parte si è trovato anche ad avere l'esigenza di strutturarsi, perché ovviamente più si diventa grandi, più le cose devono essere gestite in un certo modo, con determinati processi, con determinati aspetti. Sicuramente è molto importante, se si vuole iniziare, affidarsi o perlomeno sentire i consigli di persone che magari già questo lavoro lo stanno facendo, non improvvisare, perché improvvisare significa fare degli errori che probabilmente altre persone hanno fatto prima di noi. E bisogna certe volte avere anche l'umiltà di ascoltare magari chi sta facendo, o un consulente che sta lavorando da più tempo su questo settore qua. È molto importante, come hai detto prima, l'aspetto legale, l'aspetto contrattuale, l'aspetto, diciamo, anche degli adempimenti che devono essere fatti. È molto importante strutturare bene, prima di partire, una propria idea, quindi fare anche delle analisi, anche utilizzando comunque determinati strumenti sulle potenzialità che può avere una determinata area rispetto a un'altra. Quindi è importante raccogliere informazioni. Più informazioni si raccolgono, più, non dico che è impossibile fare errori, ma diventa perlomeno più difficile. O perlomeno si sa quali potrebbero essere le alternative nel fare una scelta rispetto a farne un'altra. E su questo, appunto, è importante magari chiedere un consiglio, una consulenza in più rispetto che è di improvvisare e magari fare perché l'amico ha fatto così o l'altra persona ha fatto così. È importante perché poi gli errori alla lunga vengono fatti e poi può essere difficile correggerli. Grazie Stefano. Torniamo a parlare di check-in. Entriamo nel dettaglio di questo processo automatico che libera tempo al gestore e offre la libertà al turista. In che cosa oggi, Patrizio, il software può sostituire perfettamente una persona e che cosa può fare addirittura meglio di una persona? Sicuramente ci sono una serie di attività che nel check-in obbligano fondamentalmente l'essere umano ad essere presente. In particolar modo c'è la parte della raccolta del documento e dell'invio alla questura, che è la parte più delicata. C'è un testo unico sulla pubblica sicurezza denominato TULPS che richiede la verifica del documento di identità dell'ospite che viene accolto, con l'invio ovviamente delle informazioni sul main guest, quindi sull'ospite principale e sugli ospiti successivi. Teniamo conto che questa è la parte più delicata, perché è quella dove ovviamente si interagisce con leggi abbastanza restrittive e che richiedono ovviamente una determinata attenzione. I software in cosa ci aiutano? Ci aiutano nel ridurre ovviamente il tempo, ovviamente non ci possono garantire il 100% della conferma dell'informazione se non supportate dalla presenza fisica. Voi tenete conto che CHISI ha la possibilità di far fare la raccolta dei dati e la verifica del documento d'entità tramite un servizio di videosorveglianza H24 7 giorni su 7. Questo permette ovviamente al software di raccogliere il documento dell'ospite, fare un selfie se viene fatto un check-in online o uno scatto direttamente al point nel momento in cui c'è un check-in con raccolta fisica che permette ovviamente di verificare la veridicità del dato. I software aiutano nel momento in cui questo permette al guest di essere più semplice. Oggi i check-in vengono fatti spesso in mobilità, cioè oggi nel momento in cui decido di partire da casa mia, il Texas per fare un esempio, e voglio arrivare nella città di Roma anziché di Firenze, mentre sto facendo questo percorso decido di fare il check-in e quindi ho necessità di dare ai miei ospiti uno strumento che metta in condizione il guest di poter arrivare fino a un secondo prima di entrare in casa e di darmi tutta una serie di informazioni. Ovviamente queste informazioni devono essere verificate e possono essere verificate tramite strumenti. Uno degli aspetti importanti è sempre il pagamento della tassa di soggiorno, che è un'altra dinamica molto delicata per noi host e per i proferti, che non è solo la raccolta di per sé ma è poi rigirare la stessa tassa di soggiorno direttamente al comune di riferimento. Questi sono tutti i tempi che lato host e lato proferti sono tempi morti. Sono quei costi che spesso immagino Stefano come presidente dell'associazione riconosce, sono tempi post check-in e che questi invece possono essere già totalmente automatizzati, quindi sia la raccolta della tassa di soggiorno sia il documento possono essere inviati uno alla questura direttamente, quindi anche inferiore al tempo delle 24 ore dove il test 1 su pubblica sicurezza ti obbliga, sia al comune, senza dover fare tutta la parte di back office che ci obbliga ovviamente a avere costi superiori, obbliga noi host e proferti a avere costi superiori e tempi di gestione. Patrizio grazie, come al solito sei sempre estremamente modesto perché io ho fatto un check-in lì al punto chisi e in due minuti e punto 13 non solo hai fatto questa roba, mi hai anche venduto dei servizi ancillari, mi hai garantito che mi avresti tenuto i bagagli al momento del check-out e mi hai fatto sentire importante perché i servizi ancillari erano riferiti al momento in cui io facevo il check-in. Quindi tutte cose che magari anche la persona fa, ma se abbiamo dei collaboratori sappiamo che spesso o se ne dimenticano, mentre il tuo software no, lui se ne ricorda sempre, quindi bravissimo. E parlando, guarda, proprio del tema della mobilità, voglio chiedere a Bartolomeo, questo tema è un tema molto attuale per i gestori perché noi spesso ci troviamo a lavorare in posti diversi rispetto che all'ufficio, no? E quindi come può aiutarci un software a lavorare in mobilità? Cioè, come possiamo ottimizzare i costi dei vari spostamenti? È possibile farlo attraverso un software? Assolutamente sì, infatti noi abbiamo fatto uno sviluppo molto specifico per quanto riguarda l'utilizzo degli smartphone, quindi parliamo di app, quindi non di interfaccia ottimizzata per il mobile. Perché? Allora, innanzitutto riteniamo che, come Danilo accennava, ormai la questione della mobilità nel 2017, quando io con lo smartphone pago, comunico e faccio tantissime cose, devo essere anche in grado di gestire la mia propria struttura direttamente in temporale ovunque io mi trovo, visto che fisicamente anche molti property manager non hanno una reception, non hanno una struttura dove, diciamo, possono usufruire di tutti i comfort, tipo una sedia, no? E ovviamente la stessa app, quindi diventa uno strumento di gestione, ma diventa anche uno strumento di collaborazione, quindi utilizzato dai collaboratori che poi partecipano al funzionamento dell'impresa. Mi riferisco a quelli che vengono chiamati checker o runner, quindi la gente che poi fisicamente va a fare i check-in, che può acquisire direttamente i dati degli ospiti in stile chisi, direttamente sulla app. Mi riferisco a chi poi esegue le pulizie, che può segnalare quando un appartamento è stato correttamente pulito, chi opera le manutenzioni, quindi sapere subito il costo della manutenzione, quanto se effettivamente posso confermarlo oppure no. La gestione della biancheria, caricare il carico del pulito, lo scarico del pulito, il carico dello sporco. Chiaramente perché io dovrei utilizzare queste app e non come probabilmente oggi faccio con Whatsapp o qualche altra applicazione di comunicazione? Perché il dato è solido, il dato è lo stesso viaggio, lo stesso dato che viaggia da un utente ad un altro utente. La solidità del dato permette di minimizzare le percentuali di errore, ma soprattutto vi dà la possibilità di avere un controllo costante, io non mi stancherò mai di dirlo, il controllo delle informazioni che noi abbiamo riguardo all'andamento della nostra struttura è quello che in molti casi fa la differenza, perché vi dà gli elementi per prendere le decisioni e i property manager, noi abbiamo notato, sono costretti a prendere decisioni a volte in maniera molto immediata e molto diretta sul da farsi. Quindi riteniamo che continueremo anche molto a sviluppare sul discorso del mobile, ad esempio stiamo integrando il sistema di messaggistica diretto nell'app di Cross in modo tale da poter rispondere ad eventuali richieste degli ospiti in tempo reale, mentre sono in macchina, magari parcheggio prima, oppure mentre sono al bar, oppure mentre sto facendo qualsiasi altra cosa, perché anche la reattività nei confronti delle comunicazioni con le ospite è certamente un elemento che accresce la qualità del servizio di ospitalità che viene fornito anche in un'ottica più generale. Grazie Bartolomeo per questi spunti che sono eccezionali. Antonio, quello che voglio chiederti in questo momento è come fai a convertire il 99% delle richieste di preventivo di quelle persone che non fanno direttamente la prenotazione sul sito, ma passano dal form di richiesta di prenotazione, perché magari hanno delle richieste specifiche, eccetera. Tu hai quasi una formula magica che ti permette di fare sì che questa persona interessata poi si trasforma in un tuo cliente. Ci vuoi raccontare come sei riuscito a creare questa, in che cosa consiste e in che modo funziona questa tua procedura per generare clienti? Si basa su un concetto molto semplice che è diversificazione e sorpresa, sorprendere. Io ho costruito un template in WordPress, in sostanza è una paginetta web standard che ha determinati elementi, il cui scopo è quello di lasciare a bocca aperta la persona che mi ha mandato una richiesta in maniera tale da far sì che io sia l'unica scelta che questa persona può fare in quel momento, dimentica tutti gli altri concorrenti. Mi mandano la richiesta, io mando una risposta, questa risposta ha un piccolo link, una risposta molto semplice, questo link una volta che viene cliccato apre una pagina in WordPress precompilata, che io vado a cambiare in un attimo con tre variabili, il nome della persona, le date, il prezzo, quindi è molto semplice da fare, univoca, unica per quella persona, con un mini video di 20-30 secondi di me che ringrazio per la richiesta e mi presento, presento la struttura, quindi c'è subito un contatto diretto, loro vedono la persona, chi c'è dietro, che li ringrazia e li saluta, un copy con delle informazioni di base sulla struttura che loro andranno a prenotare, ciò che vogliono sapere, tre video testimonial di persone che come loro sono stati prima nella mia struttura, suddivisi per categoria, io ho coppie, famiglie o gruppi di amici, quindi ho fatto dei video testimonial nel passato di queste tre persone inseriti, in maniera che loro possono andare a cliccare e vedere cosa dicono del soggiorno in struttura a chi come loro c'è stato prima di loro e quindi garantisce. Dei testimonial normali, un video sulla struttura in sé, la piantina in tre dimensioni della struttura in maniera che possano vedere immediatamente come è fatta la casa e capire se fa per loro oppure no e poi le cosiddette call to action, cioè quei bottoni book now, prenota adesso, che sono collegati al mio booking engine, posizionati in punti strategici, quindi l'occhio scorre, vede una serie di cose, prima call to action, continua a scorrere, ne vede altre, seconda call to action, continua a scorrere, una volta che è arrivato in fondo e si è convinto della reliability, dell'affidabilità della struttura e corrisponde a ciò che vuole, clicca book now e procede alla prenotazione. Questo nell'arco degli anni mi ha portato a un livello di conversione piuttosto elevato rispetto a tutti gli altri con un lavoro minimo, veramente minimo, pressoché automatizzato. Qual è il tuo tasso di disintermediazione Antonio? Attualmente intorno all'80%. Un applauso ad Antonio con l'80% del tasso di disintermediazione, ci sta, ci sta. Torniamo a Stefano, che l'anno scorso ha fondato con alcune delle aziende più influenti del settore del vacation renta l'associazione Property Managers Italia. Ci dici qual è l'importanza di fare rete oggi in Italia, perché è importante raggrupparsi e lavorare insieme per questo settore? Sì, è un punto fondamentale ed è un'esigenza che c'era da tempo nel nostro paese. Come nuova categoria, il Property Manager di fatto è un lavoro nuovo, l'imprenditore extraiberghiero è un lavoro nuovo, è una categoria nuova. Non esistevano, fino alla fondazione un anno fa, delle associazioni di categoria che rappresentassero gli interessi di questo settore qua. Ovviamente l'esigenza è partita da varie società, fra cui Rentopolis, fra cui Family Apartments, fra cui Windows on Italy, Aldis e altre società, altre aziende che lavorano in questo campo qua, sparse sul territorio nazionale. E quello che abbiamo percepito, l'esigenza che io avevo come Rentopolis, era la stessa identica esigenza che avevano altre realtà, che lavoravano in altre regioni, che lavoravano con un'altra stagionalità. Cioè l'esigenza di essere rappresentati e di appartenere a una categoria, per tutta una serie di motivi, per dei servizi, ad esempio, che vengono dati ai vari Property Manager che vogliono iniziare o che già fanno questo lavoro. Torniamo a quello che dicevo prima, cioè il fatto di essere consigliati sulla strada da intraprendere. Per fare anche lobbying, purtroppo spesso viene visto con un significato un'accezione negativa nel nostro paese, ma in realtà non è assolutamente negativa, è semplicemente un modo per far capire noi come operatori, come professionisti, di che cosa abbiamo bisogno, verso chi? Verso le istituzioni. Lo dimostra l'iter legislativo che c'è stato in questo periodo qua. Ma soprattutto quello che si sta verificando in associazione, e sono fiero e orgoglioso del lavoro che stiamo facendo, stiamo perché non lo sto facendo io, ma lo stiamo facendo tutti quanti, è il fatto di creare delle connessioni, di creare dei sistemi, di creare sistema. Molto spesso siamo stati abituati nel nostro paese a pensare di essere più bravi degli altri, a non avere la necessità magari di collaborare. Questo ha fatto sì che tanti gruppi stranieri prendessero il sopravvento sul nostro paese, sul mercato turistico che è nostro. Ora vedo, oltre al fatto di essere una professione giovane e di esserci tanti giovani che fanno questa professione, vedo che c'è una volontà nuova, che è quella di creare delle sinergie ed è esattamente quello che sta succedendo in associazione, ed è esattamente la direzione in cui stiamo andando. E questo ovviamente fa sì che un'associazione creata un anno fa si stia espandendo in maniera esponenziale. Grazie Stefano. Patrizio, tu sei un imprenditore coraggioso, un visionario e anche un innovatore. Oggi vi voglio fare delle domande per capire dove state andando con le vostre attività. Quindi ci puoi condividere alcune delle novità su cui tu e il vostro team state lavorando? Sì, allora, come diciamo ovviamente anticipato Danilo, ci sono ovviamente delle evoluzioni anche nel check-in. È vero che il check-in online ancora dovrà cambiare, il check-in avrà la necessità di cambiare un po' la cultura, come dicevamo prima. E quindi iniziare a immaginare che per rendere libero il guest dobbiamo essere anche coraggiosi nel farlo arrivare da solo a prendere le chiavi, farlo entrare da solo nel proprio appartamento e poi fare un'accoglienza successiva se ovviamente i tempi in quel momento non ci sono. Ovviamente la necessità anche di evolversi sta nella modalità di usufruire il tipo di servizio. Ad oggi il nostro servizio può essere utilizzato one shot, quindi una volta l'anno, cinque volte l'anno ho necessità di utilizzare il servizio di Kisi e lo posso acquistare ovviamente tutto tramite applicazione o diversamente come stanno utilizzando degli host, comprano degli abbonamenti, inseriscono all'interno le chiavi e questo li permette di far fare check-in e check-out in modo automatico e decidono di incontrare i propri guest in altri momenti. L'evoluzione successiva la do in anteprima perché sarà rilasciata nel primo trimestre 2018 ma forse già nei primi 30-40 giorni del 2018, sarà la possibilità di utilizzare i servizi anche solamente on demand, anche il singolo servizio, banalmente potrete decidere sia lato applicazione o lato point, quindi sia fisico che digitale, la possibilità di utilizzare il singolo servizio, banalmente, tanto per darvi un'anteprima, solamente la raccolta del documento potrà costare anche solamente 1,90 euro, quindi cifre realmente basse che ovviamente possono permettere a tutti di poter accedere al tipo di servizio e permette ovviamente di evitare di raccogliere il documento, fare la foto, doverla mandare alla questura e questo vuol dire ridurre tanto il tempo, ridurre anche tanto il costo. Ovviamente questo è un inizio perché poi ci sarà anche di utilizzare solo il easy point con l'utilizzo del singolo box solamente per far ritirare la chiave perché abbiamo identificato in questo periodo di beta tester che i nostri host, diciamo che tra l'altro siamo orgogliosi di dire che tutti gli host che hanno utilizzato il nostro servizio l'hanno riutilizzato per più di una volta, quindi vuol dire che ovviamente cosa fanno? Lo utilizzano, incrociano le dita, vanno dal guest a chiedere che tipo di esperienza hanno vissuto e le risposte sono state tutte positive, tale per cui hanno continuato ad utilizzare il servizio. Quindi l'evoluzione va avanti cercando nuovi prodotti per i guest, per gli host, perdonatemi, ma anche nuovi servizi per i guest perché inizialmente il nostro business era partito per migliorare la vita degli host, invece ora guardiamo solo e esclusivamente al guest. Siamo convinti che il guest che prende in carico, che decide di prendere un appartamento oggi, in futuro deciderà di prendere un appartamento dove avrà un self check-in, dovrà avere la possibilità di arrivare quando vuole, dovrà avere la possibilità di ottenere una serie di servizi che oggi non ha. Grazie Patrizio. Bartolomeo, il cuore dell'automatizzazione aziendale è quindi il software gestionale. Un'azienda che opera nel settore del vacation rental ha necessità però diverse rispetto a quelli che operano nel settore alberghiero. Nel nostro settore quali sono gli aspetti in comune con il settore alberghiero, invece quali sono quelli diversi, in quali moduli si differenzia il gestionale rispetto a quegli alberghieri? Sicuramente quello che dalla nostra esperienza abbiamo evinto è che la caratteristica principale del mercato del vacation rental è quella di richiedere una decisa flessibilità e uno spirito di adattamento molto veloce della piattaforma, nel senso che i processi mutano talmente velocemente ma anche le dimensioni e le esigenze di gestione che c'è bisogno di uno strumento che risponda in tempi brevi a quella che è un'esigenza. Sebbene alcuni principi tipo quello dell'hospitality e quindi del concetto di ospitalità sono mantenuti sebbene con forme più attuali tipo ad esempio non so di chisi, sicuramente il vacation rental ha una particolare esigenza per la distribuzione geografica di queste proprietà, quindi parliamo di geologalizzazione, parliamo di ottimizzazione dei percorsi quando devo eventualmente accompagnare gli ospiti, parliamo anche di riposizionamento di eventuali ospiti che non rende la procedura semplice quando magari si hanno strutture distribuite ma soprattutto deve essere in grado nel momento in cui un imprenditore dell'ex alberghiero ha esigenze particolari di gestione di queste proprietà che possono aumentare, diminuire, modificarsi anche velocemente nel tempo, di avere uno strumento che si adatti al modello di gestione e non viceversa. Quello che noi suggeriamo o quello che cerchiamo di fare è fare in modo che Cross abbia la possibilità di adattarvi a quello che è il vostro modello di gestione e non che sia necessario stravolgere le proprie logiche e la propria organizzazione per seguire un necessario strumento di gestione. Grazie Portolomeo, io mi sono tenuto l'ultima domanda per Antonio perché Antonio oltre ad essere un appassionato, un influencer di questo settore è anche un gestore e Antonio tu possiedi alcuni appartamenti in Sardegna che performano mediamente più del doppio di altri mobili presenti lì nella zona, correggimi se sbaglio, e hai anche recensioni entusiaste, cioè le persone sono veramente felici di venire da te, ma tu sei lì pochi giorni l'anno in realtà, cioè non ci sei quasi mai praticamente. Ci dici come fai a gestire al remoto una struttura e ottenere questo successo, cioè quali sono i tuoi segreti per gestirla da remoto? In realtà è la comunicazione che faccio con il cliente dal primo punto di contatto, come già ho spiegato nelle domande precedenti fino a prima dell'arrivo, quando è lì e quando ritorna. Ho un buono staff in loco, io vivo a 800 chilometri di distanza quindi gestisco tutto in remoto come giustamente dicevi te, mi serve un collegamento internet e basta. Quando le persone arrivano lì faccio una cosa che poche persone fanno e che è anche probabilmente difficilmente scalabile per un property manager a meno che non abbia una persona dedicata che è una Skype call di pochi minuti, due o tre minuti dove do il mio benvenuto personalizzato a tutti gli ospiti che arrivano, cerco di farlo quasi sempre. Questo produce immediatamente sempre l'elemento sorpresa di cui parlavo prima, sorpresi quando hanno visto la risposta iniziale e hanno deciso di prenotare, sorpresi durante la comunicazione che faccio prima che arrivino, che è tutta automatizzata tra l'altro e sorpresi quando arrivano perché è vero che ho delle persone che gli fanno il check in, però queste persone sono state istruite a far partire una Skype call o un tablet negli appartamenti, gli ospiti vedono me, ricollegano al video, ricollegano alla comunicazione, immediatamente si abbassa la soglia di problemi potenziali che posso avere io nel momento in cui si verifica qualcosa di inatteso, si rompe qualcosa durante il loro soggiorno perché sanno fin dall'inizio che se c'è bisogno mi possono contattare in qualunque momento, via Whatsapp, cosa che poi in realtà non succede quasi mai. Quando succede mi scrivono su Whatsapp, gli rispondo subito, questo produce nell'ospite una sensazione di essere curati, coccolati, al sicuro, se c'è qualche problema e tu sei responsive e dimostri di fare l'impossibile, se anche non riesci a risolvere poi quel problema e gli offri qualche alternativa, è più difficile che gli ospiti quando tornano a casa scrivano una recensione negativa nei tuoi confronti, perché hai veramente fatto, come dicono in inglese, sei andato the extra mile, sei andato oltre per fare il massimo. Quindi questo mi garantisce di avere un altissimo livello di ospiti soddisfatti che diventano poi degli ambassador a casa, che parlano con tutti i loro amici, che decidono di tornare, di portare altre persone, ecco anche perché l'80% di prenotazioni dirette è proprio un circolo che inizia dal primo all'ultimo momento di punto di contatto. Molte delle cose sono automatizzate con un gestionale che ho, per cui molta della comunicazione che faccio scritta alla fine diventa una procedura con delle mail che vanno. ragazzi, che dire, è stato un onore e un piacere avervi qui sul palco di BTO, che è la decima edizione ma per la prima volta si apre al settore del vacation rental e il settore extralberghieri in generale è molto presente in questa edizione. E per voi che avete assistito a questo speech, l'invito è di inseguire i relatori allo stand 33 Vivere di Turismo se avete naturalmente voglia di chiedere qualcosa, un approfondimento perché non abbiamo tempo per fare domande. Vi ringrazio ancora per gli ottimi interventi e ci vediamo alla prossima edizione di BTO.